È lento, è lento, è lento, è lento, è lento, è lento, è lento. Sette anni e questi quasi fottoni milioni le danno pure l'elogio, il prego. Sto a vedere che adesso mi potete pure prendere che è pazzo il follo. Trovatemelo voi, intelligentori. Cadaveri! È salita la temperatura, me la calvo. Mi dovrebbe venire a voi, l'influenza perenne. Perenne! Perché questo abbigliamento? Perché se sarei venuto in forma, fra virgolette, normale, non mi avrebbero minimamente considerato. E quindi un rappresentante del popolo, per farsi ascoltare minimamente, deve scendere in maniera circense. Circense! È spettacolarità, capito? Sette anni, presidenti, assessori, vescovi, cardinali. Non è importante la C come vescovi, la P come politico, la S come sindaco. È importante la E come efficienza! Efficienza! Fred Kruger, il grido del silenzio, sarò il peggior incopo dei vostri sogni. Cadaveri! Abbracciamoci tutti insieme! Abbracciamoci! Siamo il popolo! Questa è l'unica forma di trasparenza, perché siete pure voi. Le RAI, le televisioni multinazionali, dove sono? I giornalisti, i venduti. Cadaveri! Cadaveri! Il grido del silenzio, la voce del popolo, le famiglie allo stremo. E questo è banco per l'anticamera. E il generale Panetta non ha bisogno di aggettivi, di violenza, di volgarità e di estremismo. Anche se infatti è la volgarità, guardate che ipotesia, popolo. Ne assorbiamo tanti per televisione e gli battiamo pure le morti. Cadaveri! Bravo! Bravo! Bravo!